Dunque tre giorni fa dovevo stendermi la lenzuola con la biancheria e a un certo punto mi vedo tre gabbiani proprio che mi aggredivano con le zampe davanti, col becco e ho dovuto chiudere subito e portarmi la roba dentro perché se no mi aggredivano. Mia figlia addirittura è venuta anche con la scopa, aggredivano la scopa e aggredivano a lei. Rinacassi da un paio di giorni è ostaggio di tre gabbiani che dopo aver fatto il nido sul tetto della casa della donna in via Giardini a Cagliari impediscono alla signora di stendere i panni. La donna ha così avvertito i vigili del fuoco che hanno interessato della vicenda anche il corpo forestale. Spesso capita che due gabbiani vadano in giro per cercare del cibo e il più piccolo rimanga a guardia del nido, talvolta nel minino delle cornacche. Marina Casti ha paura di uscire in terrazzo. Non riesco a stendere, ho dovuto stendermi la roba dentro nello stendittoio perché non riesco, perché aggrediscono. La donna abita da decenni in via Giardini. In 40 anni che abito qui non mi è mai capitato. La donna abita da decenni in via Giardini.